Parte senza troppi disagi, il nuovo dispositivo di traffico in via Chiatamone è messo a punto per alleggerire l'impatto della ZTL sul lungomare. Da ieri, con l'inversione del senso di marcia, le auto che percorrono via Arcoleo possono raggiungere Santa Lucia anche attraversando via Chiatamone. Sarà più semplice inoltre anche percorrere via Nazario Sauro con il senso invertito in un tratto di via Lucilio. Il provvedimento è l'ultimo degli accorgimenti voluti dall'assessorato alla mobilità per migliorare la circolazione nelle aree pedonalizzate di via Partenope e via Caracciolo e pensato per ridurre gli ingorghi al ridosso della Galleria Vittoria. Soddisfazione è stata espressa dall'assessore Anna Donati che punta a ridurre le criticità per rendere più fluida la circolazione. I dispositivi della ZTL del mare saranno validi fino al 30 novembre per diventare poi definitivi con l'attivazione dei varchi telematici a protezione del lungomare liberato. Non si escludono comunque nuovi miglioramenti per alleggerire ulteriormente il traffico.